3, 2, 1, via! E venti destra 4, vai in 150 destri! In fondo, sinistra 5 che chiude il cartello con 40! Sinistra 5 e al cartello chiude 40! Va chiude 40! Sinistra 2, vai in 100! Destra 2, up! Destra 2, non tagliare! In 80, sinistra 2! 80, sinistra 2! 80, sinistra 2 in 100! Sinistra 4, sfiora su d'ossi in 50! 4, sfiora su d'ossi in 50! Per destra 3, lunga non tagliare! Destra 3, lunga non tagliare in 10! Sinistra 4, non tagliare! Sinistra 4, non tagliare! E destra 4, lunga e sporca! Con 40! Sinistra 4, non tagliare in 20! Sinistra 4, non tagliare in 20! Sinistra 4, meno meno taglia in 30! Sinistra 4, meno meno taglia in 30! Destra 3, non tagliare! In 80, in 80 vista! Destra 3, sale! Non tagliare! Destra 3, sale! Non tagliare! E a fine muro, sinistra 2, non tagliare! Con 50! Sinistra 2, non tagliare! 50 ai cartelli! Sinistra 4, molto sconnessa! E poi ritarda destra 4, non tagliare! Che chiude 2 in bivio! Per sinistra 4, chiude 2 qua! E sinistra 4! Ehi! Bravo! Sinistra 4, destra 5! In ancora sinistra 5, in 50 destri! E al muro scende! Destra 4, taglia per sinistra 4, vai! Destra 4, taglia sinistra 4, vai! E destra 4, taglia sporca! Per subito sinistra 1, sporca! Taglia sporca 4, subito sinistra 1, sporca! Bravo! Bravo! E vai, diventa 3! Destra 4, taglia sporca! Come mai tutta sta polvere? In 100! Destra 2, sporca sconnessa! Sconnessa in uscita! Destra 2, sporca sconnessa in uscita! Per sinistra 4, taglia sporca! Bravissimo! Sinistra 4, taglia sporca! Per destra 4, taglia sporca! In sinistra 4, taglia vai! In 100! Sinistra 5, subito destra 4, meno sporca! 5, subito destra 4, meno sporca! E subito sinistra 4, chiude! E subito destra 2, sporca! Destra 2, sporca! bravo, per sinistra 3 lunga e rotta e destra 3 taglia bravo, gancia così, bravo, bravo vai, destra 3 taglia e destra 5, taglia in 100 a vista, molto sconnessi in fondo destra 3, subito sinistra 2 destra 3, subito sinistra 2 per destra 4 taglia, vai 100 destra 4 vai, taglia 100 a rail in fondo destra 5, per sinistra 4 taglia, vai destra 5, sinistra 4 taglia, vai in destra 5 condosso la fine e 20 sinistri e destra 4 vai 20 sinistri, destra 4 vai e sinistra 4 taglia per 50 destri, sinistra 4 taglia e sporca 50 destri, sinistra 4 taglia e sporca per destra 2 Salmo non tagliare e con 20 sinistri proprio 20 sinistri ritarda sinistra 3 non tagliare in destra 5 sinistra 3 non tagliare in destra 5 in sinistra 5 non tagliare fai attenzione occhio e destra 5 salta la morte diventa 4 salta la morte diventa 4 e va in sinistra 2 salta qua va in sinistra 2 per destra 2 taglia apre sporca destra 2 taglia apre vai e sporca in 80 vista molto sconnesso e sinistra 3 meno sinistra 3 meno per destra 4 rotta e sporca in 100 molto sconnessi 100 molto sconnessi e stacca destra 1 subivio sale non stringere subivio sale destra 1 non stringere e sinistra 5 lunga che ai contrari diventa 4 e fai attenzione subito destra 4 taglia sporca diventa 4 subito destra 4 taglia sporca e che diventa 3 sporca al palo e per sinistra 4 vai sinistra 4 e 50 al muro destra 5 lunga con 40 dopo la destra 5 lunga 40 e sinistra 5 per attenzione destra diventa 4 sudosso per 150 vista 5 diventa 4 sudosso e 150 vista e vai in pieni giù sinistra 5 sudosso per 50 sinistra 6 taglia 50 sinistra 6 taglia per destra 5 non tagliare diventa 4 destra 5 non tagliare diventa 4 per sinistra 4 che diventa 2 alle zepre e dopo sinistra 2 destra 2 taglia e vai per sinistra 4 vai e rotta taglia aggancia sinistra 4 vai e rotta con 30 ancora destra 4 per sinistra 5 meno destra 4 sinistra 5 meno e destra 4 due tempi aggancia taglia il primo e aggancia il secondo per 20 sinistra 2 gira e vai in destra 2 sinistra 2 vai in destra 2 e dopo la destra 2 sinistra 4 vai in destra 5 lunga vai vai Lorenzo vai sinistra 2 sale a Ray destra 5 lunga è questa eh e a Ray sinistra 2 sale ritarda destra 2 dai Lorenzo dai dai che buono destra 2 sinistra 4 vai sinistra 4 vai in destra 5 e fine prova buono buono Say it.